E gli ospiti? Sì, 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 pavimenti e avva, pavimenti e avva! Ciao, lennicane! Oh, ciao! Non sapevo che potrei venire tu. Certo, sono venuto qui a giocare con voi. Ah, e perché sei vestito come uno spazio? Perché voglio andare nello spazio! Oh! Mi sa che Danny vuole giocare. Dai, seguiamolo. Yahoo! Ah, come si stanno divertendo loro! Che bel programma pure! È pronto! La cena è servita! Ok, andiamo! Ci deve essere una consegna per Peppe e Jobs. Ok. Ok, vicino. Ok. Ok. Mi posso togliere. Oi! Ci deve essere qualcosa da consegnare. Sì. Ok. Ok. Prendo questi pacchi. Ok. E li metto nella cassetta della posta. proprio qua vicino. Ok. La metto qua. Metto qua i due pacchetti così si accorgeranno. Beh, adesso è tutto. Devo andare a fare un'altra consegna. Ma... Che... 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 Oh, mamma mia. Oh, 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 oh. Oh, non c'entro più! Mamma Pig, era tutto squisito. Grazie. Ok, andiamo. Oh, 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 oh. Mentre io vado a lavare i piatti. Giorgio, ma tu sai dove è Peppa? Boh, non lo so. Chiediamola a Papa Pig. Papa Pig, dove è Peppa? E' uscita perché deve andare a scuola. Ciao, scusate per il ritardo. Oh, ciao Peppa, bentornata. Voglio giocare con loro che ti stavano aspettando. Ok, andiamo a giocare alla cazza di Geronimo Stilton. Evviva! Sì! Arriviamo anche noi! Che bello! Sì, sì. Oh, ma c'è un pacco là dietro. Mmm, sbirciamo qua nella macchina. Oh, vedo il pacco! Vedo un pacco! Vedo un pacco! È vero! Due pacchi più che un pacco. Ok, prendiamoli e consegniamoli a Mamma Pig prima. Sì, pacchi, pacchi, pacchi. Pacchi, 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 pacchi. Sì, sì. Mamma, pacchi, pacchi. Ma, George, cosa? Oh, ma è passato il postino. Oh, ecco i due pacchi. Oh, va bene. Grazie, George. Grazie, George. Ok, George. Spostiamo la macchina. Oh, isha! E andiamo alla casa di Geronimo Stiton. Evviva! Che rilassante è questo programma. Oh. Sì, 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 sì. Oh, Peppa! George, Danny Khan, eccovi qui. Mi stavo proprio aspettando. Ciao, trappola. Andiamo al piano di sopra a giocare con la botola. Oh, per fortuna la scienza vi è già aperto. Dai, entro a te. Ma non c'entriamo tutti. Oh, no. Vediamo se c'entro fuori io. Oh, oh. Oh, oh. Forse non c'entro più. Oh, mamma. Oh, oh, oh. Scusa, Peppa. Oh, oh. Oh, no. Non so se si chiudono le porte, ma siamo in tanti. Siamo in tre. Oh, 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 oh. Ah. Per fortuna. Saliamo tutti dal piano di sopra. Oh, oh. Si vede già l'ovecchio di Peppa. Oh, no. Oh, oh, no. Oh, mamma mia. Lo so che soffro le vertigini ma siamo al piano di sopra. E perché la scienza vi non va? Oh, no. Siamo rimasti bloccati. Oh, no. Ci salva. Ci salva qualcuno. Per fortuna, non dottor Quazzo, con questa telecamera ci guarda. Oh, per fortuna. Oh, oh. Ci salva. Ci salva qualcuno. Oh, no. Ma cosa? Peppa, Giorgio, degli cane. Perché? La scienza vi si è fermato. Non lo so. In un momento la scienza vi si è fermato. Ma non sappiamo perché. Oh, no. Non voglio rimanere qui per una settimana. Tranquilli. Vi aiuto io. Oh. Infatti sembra un po' pericoloso. Oh, no. Devo subito chiamare qualcuno. Non lo so. Chi? Ci sono solo io al piano di sopra. Oh, no. Ok, devo andare. Geronimo Stilton, non puoi andare nel tuo studio perché ci sta mandando Peppa, Giorgio e degli canne. E infatti l'ascensore è chiuso. Sì, però c'è una cosa gravissima. L'ascensore si è bloccato e quindi rimangono qui forse per una settimana. Oh, no. Cosa devo fare adesso? Non c'è più scampo. Oh, no. Devo subito liberarli. E adesso come faccio ad andare al piano di sopra? Non ho le scale. Eh, sì. Questo è un grosso problema. Dobbiamo subito chiamare qualcuno. Oh, tranquilli, ragazzi. Vi salvo. Per fortuna non ho trovato che la telecamera ci guarda. Sì, ci guarda perché c'è la telecamera qua dietro di voi. Sì, però il problema non è questo. Il problema è perché stiamo bloccati in un ascensore e non sappiamo più come fare. Sì, questo sì, lo so, ma dobbiamo intervenire con Papa Pig che lui è un idraulico. Oh, sì. Cosa succede? Cosa succede? Papa Pig, Peppa, Giorgio e dei cani sono qua nell'ascensore e sono rimasti bloccati. E quindi Benjamin li deve aiutare, ma è troppo alto. Oh, sarebbe un grosso problema. Nemmeno io... Oh, sì, ci riesco. Sì, ci riuscivo perché sono proprio alto. Oh, grazie Papa Pig. Grazie mille. Oh, ok. Oh, oh. Papa Pig, ma hai incastrato il muso nell'ascensore. e niente di male. Eh sì, non abbiamo le scale. Boh, cosa facciamo? Forse qui c'è un posto libero. Oh, oh, oh. Forse devo far salire ancora l'ascensore. Oh, no, ci vuole un idraulico. Non abbiamo le scale. Oh, oh. Oh, ma accidenti. Infatti sono intervenuto io, ma è troppo alto. Eh, non so cosa fare. Eh sì, questo qui è un problema. Dobbiamo intervenire con Trappola. Trappola! Eh? Vabbè, chiudonatevi. Peppa, George e Danny Cane sono andati nell'ascensore. Ma non so cosa fare perché si è bloccato l'ascensore. Benjamin è nello studio di Geronimo Stilton, però è troppo alto e quindi ci serve un piccolo aiutino. Ehm, va bene. Se proprio vuoi insistere, allora sì. Vedi? Sono rimasti qua bloccati e non sanno più cosa fare. Sì, questo sì che è un grosso problema. Benjamin, ci riesci? Dai, che ti salvo io. Oh, non lo so. Oh, 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 oh. Un piede qui, un piede, un altro qui. Oh, oh, oh. Benjamin, ti sei fatto male? No, ma sono proprio caduto. Oh, mamma mia, adesso. Boh, che cosa possiamo fare? Aiuto. Siamo così disperati. Oh, figlioli tranquilli. Benjamin, oltre che stai bene, dobbiamo salvare anche i tuoi nipotini. Oh, bene. Bene, forse devo mettere la testa qua. Ok, mi devo mettere qui. Cosa hai intenzione di fare, trappola? Devo forse spingere con la testa. Basta, trappola. Forse io che sono pesante. No, papà Pig, farai la fine di trappola. Oh, mamma mia. Oh, piccolini. Oh, oh. No, non ci riesco. Ci deve essere qualcuno che sia forzuto, tipo me. Ma che sia più forzuto. Orso, che intenzione, sì. Orso? Sì, che c'è? Peppa e George e degli cane sono andati qui nell'ascensore. Ma si è bloccato. Benjamin ha voluto aiutarli, ma è caduto dal buco e si è fatto un po' male. Ehm, ci riesci anche tu? Ehm, non so. Oh, oh, che sì, sì, ci riesco. George, agappa il mio naso. Ah, 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 ah forse dobbiamo scendere oh 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 ahi oh ahi che male oh 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 e adesso cosa facciamo volevamo scoprire la sorpresa va bene arrampiccatevi qui ok saltiamo tutti insieme coraggio oh 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 siamo venuti nello studio di Johnny Mostilton ma guardate si sta prendo un canino e si sta prendo la porta entro tu Peppa si oh entro George si si oh oh tu George un po' di coraggio oh 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 sono incastrato oh 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 aiuto aiuto e io poi io lo stesso problema e ci siamo divertiti lo stesso ci siamo divertiti tanto ragazzi lasciate un po di censura e iscrivetevi al canale e cliccate qua sotto nei commenti e iscrivetevi al canale ciao e al prossimo video